E' finita con il punteggio di 10-0 l'amichievole che il Lecce ha disputato ieri pomeriggio nel ritiro di Cotronei contro la locale formazione del Belvedere Spinello. Mister Padalino ha schierato nel primo tempo una formazione composta da Gomis, Capristo, Ciancio, Arrigoni, Vinetto, Giosa, Vutov, Fiordilino, Caturano, Lepore e Dumbia. Mentre nella ripresa sono scesi in campo Bleve, Vito Francesco, Camisa, Contessa, Cosenza, Carrozza, De Feudis, Maimone, Monaco, Pacilli e Persano. Le reti sono state messe a segno nella prima frazione di gioco da Caturano, che ha realizzato una doppietta, Dumbia, Lepore e Vutov. Mentre nella ripresa marcature ad opera di Pacilli, che ha realizzato 4 gol, e Monaco. Oggi in programma una sola seduta di allenamento, mentre il 23 luglio è prevista la seconda e ultima amichievole contro la rappresentativa Camigliatello Silano. Sul fronte calciomercato si apre uno spiraglio per l'ingaggio di Leonardo Perez. L'attaccante, finito nel tacquino della società giallorossa già a gennaio di quest'anno, è il principale obiettivo per l'attacco del direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, che punta sull'ingaggio del centravanti originario di Mesagne per completare il reparto avanzato del Lecce.